Quello che vi racconto adesso è abbastanza, come si può definire, assolutamente assurdo. Il presidente della commissione antimafia, Nicola Morra, attacca Salvini perché è andato in Calabria con il Rosario. E voi direte, quindi, in Calabria non si può andare con il Rosario? C'è qualcosa che lo impedisce? Ma questo signore dice, l'8 agosto ha fatto sapere Urbi e Torbi dopo la benedizione del papete che bisognava interrompere l'esperienza di governo. E poco dopo è partito per la Calabria dove ha ostentato un Rosario. E poi dice, ostentare un Rosario, votarsi alla Madonna dove c'è il santuario in cui l'Andrangheta ha deciso di votarsi, significa mandare messaggi in codice che uomini di Stato debbono combattere e non favorire. Ma sicuramente è stato per ignoranza e non per intenzione, dice Morra. Salvini risponde immediatamente, dice, il senatore Morra ha detto che il Rosario in Calabria è un omaggio all'Andrangheta. Io rifacendomi a Maria e al Buon Dio secondo Morra ho mandato un messaggio all'Andrangheta. Ma vi rendete conto? Ora in Calabria non si può pregare la Madonna, alla faccia della libertà. Mi sembra assolutamente farneticante. Cioè, voi vi portate un Rosario, andate in vacanza in Calabria, vi portate un Rosario, o anche solo se abitate in Calabria. Attenzione, perché se per caso tirate fuori dalla tasca un Rosario, una croce, voi state mandando un messaggio in codice all'Andrangheta. Capite che questo signore, come si può definire, avrei tante parole ma non si possono dire in Youtube. Assurdo. Questa è veramente... io non ho mai... poche volte ho sentito una cretinata di questa grandezza. Questa è proprio... come dire, devo parlare con un giornalista, vediamo quale cretinata posso dire oggi... Ecco, Salvini ha mandato un messaggio in codice all'Andrangheta. E tu ti cosa? Sì, hai portato il Rosario in Calabria. Ah, ho capito. E' veramente... impressionante una cosa del genere. Attaccare Salvini sempre e comunque inventandosi la prima scemenza che passa... Questa qui è proprio una scemenza, questa qui è veramente... ho tante parole ma non le posso dire. Grazie per avermi ascoltato e arrivederci. Grazie. Grazie.